in eccellenza femminile il girone di andata si conclude nel prossimo weekend e la formazione della nocerina femminile allenata da zollo e mervoglino domenica scorsa si è riposata dato che avrebbe dovuto affrontare l'esclusa virtus volla ma è reduce dalla vittoria 10 a 0 sulla compagine di mugnano e da lì cercherà di ripartire le molosse hanno fatto pochissimi punti nel girone di andata 4 sul campo 3 nella classifica per effetto di una penalizzazione ma ultimamente hanno denotato qualche progresso dal punto di vista tattico forse potrebbero migliorare la tenuta mentale dei secondi tempi ma da parte loro hanno quale obiettivo quello di cercare di rendere la vita difficile a tutte le avversarie di qui fino alla fine del campionato domenica le nocerine affronteranno a casignano le napoletane del sant'anastasia che hanno 17 punti e sono in centro classifica fischio d'inizio fissato per le ore 19 sotto la luce dei riflettori in alta classifica la formazione di villa ricca è attualmente prima con 30 punti e sarà campione d'inverno anche facendo un solo punto con caserta domenica c'è pure benevento pegaso terza contro seconda e le villa ricchesi potranno accettare di buon grado anche un pareggio nell'incontro di benevento